Signoretti porta in tribunale Belen Rodriguez, la polemica continua. L'aspra polemica tra Riccardo Signoretti e Belen Rodriguez si alimenta sempre di più e dopo le ultime dichiarazioni della showgirl argentina, che accusava di falsità il servizio pubblicato da nuovo, arriva la replica del direttore del giornale. Signoretti ha dichiarato che le affermazioni proferite pubblicamente dalla Rodriguez, sono solo menzogne e hanno diffamato la sua figura professionale, per questa ragione ha messo in moto un'azione legale contro di lei tramite i suoi avvocati. Nel frattempo non arriva nessuna smentita da parte di Maurizio Costanzo, per le dichiarazioni fatte sul conto di Belen Rodriguez e questo avvantaggia molto la posizione di Signoretti. Prima parte delle news. L'azione legale di Riccardo Signoretti. La controreplica di Riccardo Signoretti non si è fatta attendere ed è stata prontamente pubblicata dal settimanale Novella 2000 sul quale vengono riportate le dichiarazioni del direttore di nuovo, contro Belen Rodriguez. La diatriba è partita quando il settimanale di Signoretti, aveva pubblicato un'intervista di Maurizio Costanzo, il quale rivolgendosi alla showgirl, la invitava ad andare via dall'Italia e di non voler parlare più dei suoi amori. L'argentino si è scagliata contro il direttore, dicendo che non erano dichiarazioni vere quelle del conduttore Mediaset. Signoretti a quel punto ha intervenuto, dicendo che agirà per vie legali contro Belen Rodriguez, in quanto avrebbe leso la sua credibilità di giornalista e la sua ventennale professionalità. Come reagirà adesso la showgirl argentina? Farà nuovamente una controreplica? Seconda parte, Maurizio Costanzo non smentisce. Riccardo Signoretti aveva fatto notare che l'unica persona a poter smentire le dichiarazioni dell'intervista, è Maurizio Costanzo, ma da parte sua non è arrivato alcun tipo smentita in merito e questo non è molto positivo per l'affascinante Belen Rodriguez. Il direttore di nuovo, ha dichiarato che le parole del marito di Maria De Filippi, sono state tutte registrate e saranno riprodotte fedelmente nelle sedi opportune. Si mette male per la bellissima showgirl argentina, che secondo Signoretti avrebbe attuato una strategia che mirava a smontare la sua credibilità. Il fatto che Maurizio Costanzo non sia ancora intervenuto in merito, lascia molto pensare, perché di solito il silenzio vale come assenso ed in questo caso l'eccezione conferma la regola. Vedremo se è breve il conduttore dello storico Maurizio Costanzo Show, interverrà a favore di Belen o del giornalista Signoretti. Quel che è certo è che la questione potrebbe protrarsi a lungo e finire come si teme addirittura davanti al giudice. Probabilmente ci saranno ancora ulteriori novità in merito a questa vicenda, che ormai la possiamo definire giudiziaria, noi naturalmente vi terremo aggiornati.